Io sono Andrea Muzzi, autore, sceneggiatore, regista e attore. Il film nasce da una delusione, era l'anno 2019, avevo scritto una sceneggiatura con Ugo Chiti, che è uno dei più grandi sceneggiatori italiani, 5 Davide Donatello, e avevo trovato una produzione per fare questo film, però veniva rimandato di anno in anno, di mese in mese. Alla fine loro mi proposero di fare il film, ma a Malta, però girarlo a Malta voleva dire farlo, ma buttarlo via. Detta proprio con sincerità, mi presi 24 ore di riflessione e alla fine usci dal film. Nel viaggio di ritorno da Roma a Firenze, mi addormentai sul vagone Italo, carrozza 6, me lo ricordo sempre, sognai di essere premiato alla notte degli Oscar nella categoria fallito dell'anno. Mi davano questa lampadina nera affumicata. Quando mi risvegliai mi venne l'idea di raccontare un film che sdoganasse il fallimento, che anzi prendesse il fallimento come preziosa opportunità di crescita. Quindi mi misi a fare e a scrivere un film che raccontasse le gesta di questi straordinari perdenti, ma alla fine il regista era costretto a fare i conti con la propria sconfitta, con i propri limiti e a capire che la vergogna non è perdere, ma non saper costruire da una sconfitta. Buonasera a tutti, mi chiamo Stefania Pascali e sono un'attrice di teatro. Collaboro con la fondazione Global Thinking Foundation di Claudia Segre da due anni. Ci siamo incontrati in periodo Covid, abbiamo proposto un progetto di spettacolo che alla dottoressa Segre è piaciuto e con questo spettacolo siamo andati in giro in tournée per diverse località italiane. Lo spettacolo lo abbiamo scritto in due, io e mio marito Luigi Cilli e abbiamo proposto appunto questo testo a Claudia. Il testo, che si chiama Una scelta per la vita, ha debuttato a Piazza Affari, quindi in sala Borse. Il caso, la fortuna, ha voluto che in sala fosse presente un regista di cinema, appunto Antonio Silvestre. Ad Antonio, vedendo lo spettacolo, è venuto in mente di creare un documentario che avesse come fil rouge delle interviste, delle testimonianze, lo spettacolo di teatro, affinché una storia destinata a pochi potesse diventare una storia destinata a molti. Il docufilm, io spero che arriverà nelle piattaforme e in tutti i festival possibili affinché il messaggio arrivi chiaro e forte. Basta alla violenza sulle donne, qualunque essa sia. Libere di lavorare, di mangiare, di vestirsi come ci pare piace, libere di parlare, libere di intraprendere una carriera qualunque essa sia, in una parola, libere di vivere. Grazie. Io sono Angelo Cretella e questo è il mio primo lavoro di lungometraggio. Strano arrivarci con un documentario perché ho sempre pensato all'opera di finzione, però sono felicissimo di essere approdato diciamo al film lungo con Artemide a cui felicemente passo la parola. Grazie. Allora io mi chiamo Artemide Alfieri e sono nata e cresciuta a Giuliano in Campania che è il comune in cui abbiamo girato il documentario, casualmente diciamo. In realtà questo documentario è nato da solo perché noi eravamo nel secondo lockdown, abbiamo rotto la zona rossa, abbiamo preso l'auto e abbiamo, come dire, percorso questa strada statale che avevano a Versa e alla fine della strada c'era il tendone di un circo. Noi eravamo in difficoltà professionalmente con il cinema, loro con il circo abbiamo detto perché non provare a raccontare queste due arti, come dire, che se la passano molto male. Quello che abbiamo trovato nel circo è grande solidarietà, grande unione, grande voglia di farcela insieme, di unirsi per poter andare avanti insieme. Quindi era qualcosa, veramente un po' in controtendenza rispetto a quello che stavamo sperimentando fuori, quindi questo ci ha molto colpito. Grazie a Reano Film Festival che ci ha ospitato e spero che il film possa piacere, nel senso spero che possa emozionarvi tanto quanto ha emozionato noi farlo. Ciao sono Edo Tagliavini, pandemia, sono stati due anni belli tosti, era stata appena data la notizia del lockdown di Ravenna, quindi si iniziava un attimo a vivere questa esperienza stranissima del non poter uscire fuori casa. Mi viene questa idea di provare a fare un piccolo cortometraggio di 3-4 minuti dove io ero in realtà il virus che chiuso nel laboratorio dove veniva cresciuto, poi a un certo punto veniva sconfitto. Era un'idea di fare una cosa veloce di 3 minuti anche per portare una ventata positiva alla situazione che invece poi sarebbe precipitata in questi due anni che abbiamo visto. Come precipitata dopo in realtà l'idea del montaggio perché da 3 minuti andando a fugare su YouTube, perché in realtà il documentario lo chiamo documentario pop-up perché è un qualche cosa che a poco a poco più avanti esplode, è tutto un lavoro di split screen dove dentro ho cercato di mettere tutto quello che nel 2020 appunto è avvenuto e più andava avanti il tempo più avevo notizie, più avevo informazioni, più arrivavano da tutto il mondo cose veramente particolari e anche in un certo senso sconosciute attraverso i media italiani che secondo me hanno avuto la grande carenza veramente di raccontare solo una piccola fetta di quello che in realtà è stato e quindi quando si fa un lavoro si ha sempre un referente, qualcuno al quale pensi possa piacere però si cerca sempre poi dopo nel creare di fare qualcosa che possa piacere, interessare o anche infastidire chi lo guarda perché l'importante è sempre creare una reazione in chi guarda un qualche cosa perché poi magari chi viene infastidito vuol dire che forse c'è una coda di paglia dietro e quindi allora vuol dire che ancora più ha avuto efficacia la fatica fatta in due anni di montaggio sono Federico di Sicilia, sono regista erpino, sono qua a presentare Invisibili, è un film in concorso che abbiamo girato proprio in Irpinia, l'abbiamo girato nel lontano 2012 quindi questo film è una storia molto travagliata e difficile perché comunque sia in fase di produzione che di post produzione col covid diciamo ho trovato una formula per ridare vita a questo film, trovare il sentimento iniziale che mi ha spinto a scrivere, a parlare di questo territorio dell'Irpinia e quindi di queste storie legate molto all'Irpinia e quindi ho cercato di rimescolare un po' le carte, di destrutturare il racconto e di scriverlo attraverso il montaggio, questo è il motivo per cui un film è girato nel 2012 e uscito nel 2022 dopo dieci anni. Invisibili va visto perché parla della storia di crescita un po' di ognuno di noi che si scontra con il proprio genitore, ha difficoltà ad esprimere la propria personalità, è una storia universale che riguarda un po' tutti quindi il rapporto genitore e figlio è un valore aggiunto.